Il Parlamento è l'unica istituzione democratica della Unione e questo luogo è un po' il simbolo della democrazia, perché è il luogo dove entreranno i cittadini italiani, turisti, per conoscere meglio come funziona l'istituzione democratica. E ripeto, dedicare questo luogo a David, credo che sia giusto, perché David si impersonifica nel tentativo di comunicare sempre positivamente una istituzione che lui ha avuto, come me, il privilegio di guidare. Dobbiamo essere ottimisti in un momento difficile, ma non dobbiamo mai dimenticare che poi alla fine prevale il bene sul male, alla fine prevarrà la pace. Dobbiamo impegnarci tutti quanti noi perché si arrivi alla fine ad un accordo che non penalizzi l'Ucraina, perché la resa dell'Ucraina sarebbe una cosa diversa dalla pace. Se noi aiutiamo quel Paese, e il Parlamento europeo anche ieri ha deciso di dare un altro segnale al sostegno del popolo ucraino, lo facciamo perché vogliamo che non ci sia la resa ma ci possa essere una trattativa. L'obiettivo non è la guerra che deve continuare, l'obiettivo è permettere ai due contendenti di discutere d'armi pari. E siccome l'Ucraina è anche parte futura della Unione europea, credo che sia giusto aiutare quel popolo a essere parte poi di una trattativa. Noi non siamo in guerra con la Russia, non vogliamo colpire la Russia. Noi vogliamo soltanto difendere la libertà, l'indipendenza, la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto del diritto internazionale. E' anche per questi motivi che siamo europei e europeisti, siamo fieri di essere italiani e siamo fieri di essere europei. Io lo sono come lo era certamente con grande entusiasmo David Sassoli, il cui nome rimarrà a caratterizzare questo luogo di incontro tra donne, uomini, giovani, studenti, italiani e stranieri.